Motivazione, forza di volontà, ma soprattutto passione. Questa è la base dello sport. E questo è ciò che differenzia un atleta che pratica attività sportiva da uno che mette il cuore nello sport che ama. Non importa quanto volte fallirà, se cade, ha la forza di rialzarsi e usare la sconfitta come una leva per migliorare. È questo che significa avere grinta. Ha! No, 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 no. No, no, no.